Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, e questo oggi dobbiamo entrare lì dentro Ebbene sì, è un portale e si capisce facilmente il via porta, ovviamente nella dimensione dei draghi Perché l'obiettivo di quest'oggi sarà andare in un villaggio di draghi, imparare ad adomesticarne uno, farlo crescere E dopodiché cavalcarlo e distruggere tutto il mondo col potere dei draghi Insomma sarà una vera e propria figata, perché sarà super mega felice di poter distruggere e radere tutto al suolo come sempre Quindi sarà divertentissimo, ma speriamo che vada tutto per il meglio, perché potrebbe essere un po' pericoloso Ragazzi belli, è il momento di entrare, siete pronti ad andare nella dimensione dei draghi? No, sto cercando una cosa, dammi un attimo Sì, 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 cosa sto cercando? Che succede? Io sto per dire, oh ma che bello che è interrotto In questo mondo non c'è il bambù Campione, io ti brucio vivo oggi, ti brucio vivo Dai, va bene Preparati, eh Io lo lascerei qua, ragazzi Ma io l'ho detto, ragazzi, lui stava andando a cercare il coraggio Perché ha paura dei draghi, poverino Non ha il coraggio di andare lì Vabbè, già il portale Steph è un po' spaventoso Ma no, ma aspetta Sembra che sia per sputtare fuoco Che c'è, Mark? No, ragazzi, vado a prendere il bambù per i draghi Ah, è vero, non c'è Andiamo, Steph, vai Questo è pazzo, ragazzi Lasciamolo qui Oggi sta male, secondo me Andiamo Probabilmente ha preso troppo caldo, poverino Ragazzi, ma dove siamo finiti? A parte che Mark sta bruciando Ma fai attenzione, già faccio due disastri Non lo so, Steph Allora, detto così, in due secondi direi che siamo in un villaggio di vichinghi Perché guardate, questi qua sono abbastanza incattiviti Ma parecchio Però mi sembra il villaggio di Dragon Trainer Quindi teoricamente dovremmo essere nel posto giusto Ok Guarda che belle armi che hanno Sì, sì, le armi sono incredibili Ma perché pensi ai pesci morti oggi? I miei amici Quello è il cibo dei draghi Infatti E beh, cosa mangiano i draghi, secondo te? Possono mangiare l'erba No, e ovviamente non mangiano la pasta al sugo Aspetta, vediamo La sta cercando, ragazzi La sta cercando La sta cercando Non la mangiano Guarda Scusi, lei Ci sono i pomodori, però Ragazzi Oh, mamma No, Steph, non chiudere me, però Io vorrei parlare col capovillaggio Mi avete rotto tutti le scatole Buongiorno Salve a tutti Frank vichingo lo strabico Ma questa l'ho aggiunto io Ma, Steph, non è strabico Ha un occhio ferito Lo vedi? Ma guarda Frank vichingo combattente Mi scusi Se cose non si dicono Ma che brutto E ragazzi, pensano Scusate, avete ragione No, sei una persona orribile È stato veramente brutto Avete ragione Benvenuti nella nostra isola stranieri Purtroppo mi spiace comunicarvi Che ora siamo in piena guerra Contro il villaggio Che si è stabilito Proprio dietro questa montagna Stiamo subendo tante sconfitte Siamo quasi allo stremo Delle nostre forze Non è il momento di stare qua Vi consiglio di scappare Allora, ragazzi Noi qua possiamo Beh, scappiamo Prendere e andarcene E fare i perdenti poco capioncini O possiamo aiutarli In realtà non perché ci interessa di loro Ma perché vogliamo un drago da cavalcare Se ce lo dà Ce lo danno Chiedi quello Chiedi quello Allora, aspetta Stiamo qua per aiutarvi in questa guerra Cosa? Davvero? Se siete così tenaci Mi vorrei donare I nostri draghi Per aiutarvi nella battaglia Sì, che bello Li troverete nella nostra area d'allenamento Si trova alla destra Dell'uscita di questa Alla destra Allora, quindi appena esce a destra Lì, a destra Andiamo Forza, forza Seguiamo la strada a destra Perfetto Allora, io voglio un drago di fuoco Io di fuoco Io di ghiaccio No, Mark No, Mark Mark? Fuoco No Io sto correndo nel dubbio Ma hanno fatto Marci, ma che strada abbiamo fatto? Avete fatto la strada più lunga Noi siamo già arrivati, eh Hai detto seguiamo la strada Fede, noi abbiamo seguito la strada Non fate gli schifosi, eh Fuoco Ragazzi, non è mai successo nella mia vita Che io non abbia preso qualcosa Che non fosse dell'elemento di fuoco Quindi non potete farmi cambiare In questo momento Io e te siamo i primi due Quindi stiamo a posto Su, dai Steffo Ma è sinistra Ragazzi, Steffo si è dissociato dal video Lo sapete? No, no, io sto correndo Steffo Tu vabbè Ragazzi, ma quanto ci avete messo? Ah, sta andando a picchiare Marco Ups Guardalo, guardalo Ragazzi, ci dobbiamo comportare bene O ci mandano via Io ve lo dico, eh Ti metto fuoco, eh Ti brucio, eh Ti brucio, eh No, no Voglio godermi la scena, però Ma l'hai detto schifoso Vieni qua, schifoso Ecco, vai via Vai a prendere il ghiaccio E mettiti in un freezer No, va bene Così almeno sta un po' zitto congelato Ma è così bello il ghiaccio Ragazzi, te è cattivissimo Ma schifo No, certo, è bello Però io darò di più il fuoco E quello Anche a me faccio più il fuoco in realtà Però Sto che a voi piace Allora Che bravo ragazzo Allora, siamo arrivati qua C'è un libro Come ad essere un drago Perfetto Abbiamo anche le istruzioni Su Wikiau Allora, far schiudere l'uovo Per quello di tipo fuoco basta Basterà Basterà accenderlo Con l'apposito accendino Ok Per quello di tipo ghiaccio Invece basteremo Leggerlo nell'acqua E aspettare che si schiacci Che si ghiacci Ragazzi, ma leggo io Steph, segue Steph non sa più leggere Allora, aspettate Una volta che il vostro drago Sarà nato Utilizzate la staffa del Kumano Wow Ma Steph sta partendo? Sì, io me Ebbè, io faccio le istruzioni Come in cucina Una cosa alla volta Ah, passo passo Ok Allora iniziamo a far schiudere l'uovo Bello Rega, si sta Bello Sembra che sia tipo in padella Si sta muovendo Secondo me non gli piace Quei tanto poco No, secondo me gli piace No, non mi sembra No, te lo spiego io Steph Perché in pratica Lui sa che tu in realtà Non sei il suo vero padrone Ma che cosa Guarda, ne riparliamo dopo Comunque Poi adesso posso passare Alla fase 2 Una volta che il vostro drago Sarà nato Utilizzate la staffa Del comando Per far sì che vi riconosca Come padroni Alleati Ok Tutto chiaro Capito, campione Ok Dopodiché Utilizzate il corno A vostra disposizione Potrete portare il drago Sempre con voi Così acquisterà fiducia Nei vostri confronti E vi permetterà di cavalcarlo Bello Bello questo Il drago portatile Esatto Poi dateli da mangiare Per farlo crescere E diventerà ancora più forte E diventare Il vostro drago Adesso è pronto Per seguirvi Mille avventure Abbiatene cura Cos'ha oggi Steph? Perché non sa leggere? In generale non sa leggere Perché non sa leggere la sua lingua Oltretutto Manco a dire che fosse In altre lingue strane Posso dirlo? Cioè ce l'hanno scritto In italiano Il libro Il caro Frank Ce l'ha scritto in italiano Avevo un cane di fronte E mi sono distratto Ecco qua Ecco qua le scuse Ho pensato Ma adesso abbaia E mi distrae E quindi ho letto male Non sono mica Steph Venga ma Qualcuno ha letto Il tempo di cottura? Si usce pronto subito Da noi Steph Steph Suppongo che ci voglia Un po' di tempo È normale Si deve schiudere Aspettiamo Eh beh noi aspettiamo C'è tutto il tempo nel mondo Per carità Però sai Vorrei poter cavalcare un drago Invece sono qua ad aspettare Tu chiedi troppo Guarda Ma no Io chiedo solo un drago Alla fine Non è nulla di che Ragazzi scusate se non ho visto Il momento in cui è dato Ma ci ha messo Veramente un'eternità Il mio è ancora noto Ma che bellino Allora aspettate che uso La staffa del comando Eccolo Aspettatela Prendo anch'io Prendo anch'io Prendo anch'io Segui Ecco qua Ma guarda mi sto seguendo Che bellino che sei Ma che dolce Vieni con me Vieni con me Vieni qua Anche in braccio Guarda Che carino No ma è troppo bene Ragazzi Un animale domestico Perfetto Perfetto Che carino Ma è troppo tenero Non ti è piaciuto Allora Io inizio a dargli da mangiare Gli diamo da mangiare Mangia e cresci bene Mangia e cresci bene Mangia e cresci bene Mangia e cresci bene Aspetta che qui Stai fermo Che se no questo Se ne va in giro Allora Sta diventato gigantesco Io gli sto dando uno Da mangiare alla volta E ha però fatto delle stelline Credo sia diventato Anche a me Stage 2 Stage 2 Anche a me stage 2 Esattamente stage 2 Dobbiamo farlo arrivare Allo stage numero 3 Davvero Ma è gigantesco da 2 3 Sono al 3 3 Aspettate Ci sono quasi io Aspettate È gigante È gigante Vabbè che t'aspetti da un drago Teoricamente ora lo posso Rievocare Così Perfetto E ora dovrei poterlo cavalcare Ragazzi siete tutti Sopre i draghi Sì Ma sta urlando Ha urlato tanto Tanto Volo Ok Chi è qui Chi è qui che sta volando È Mark È bellissimo È bellissimo ragazzi Oddio Che bello Che bello No Stefano non devi sputare No ragazzi Non facciamo disastri qua Calmi Oh Oh Calmiamoci Vale anche per il ghiaccio Calmiamoci tutti È colpa di Mark Allora Dobbiamo dimostrare Di sapergli come andare Dobbiamo fare il percorso Attorno Ai vari cerchi Ok Sono un po' troppo in alto Così Prendo la mira Ok Eccomi Sto precipitando No Non precipitare No Ok Ok Ripeto il controllo ragazzi Tutto bene Sto bene Sto bene Ok Stef sta bene Sì Bene Perfetto Ok Raga ma quanto è bello volare Ma è bellissimo È bellissimo Raga Ho finito tutto il percorso Anche se abbiamo un po' distrutto i cerchi Noi l'abbiamo fatto due volte Io e Mark Ragazzi abbiamo un po' distrutto i cerchi Io volevo di un po' E beh perché cerchi un po' l'abbiamo rotto Siamo troppo potenti Ma allora Il mio drago Giangio è fortissimo Vediamo su quest'albero Che effettava il mio drago Ok E vabbè E vabbè Il respiro di fuoco quello Stef Porca miseria Stai spingere tutto Va per favore Sì 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 Non lo stai spegnendo Ragazzi il nostro obiettivo Stai pezzolando Guarda sta pure prendendo fuoco No Aiuto qualcuno mi spenga Mark Sì È che sto prendendo un attimino fuoco Marci spegnilo Ok No sta bene Sta bene Sta bene Ce la faccio Dicevo Stef Che l'obiettivo È quello di aiutare adesso Gli abitanti del villaggio Ok ma dove è il villaggio nemico Torniamo al centro Dietro la montagna Aveva detto Quindi da questa parte Allora da questa parte Esatto Eccolo Dovrebbe essere questo Guarda Eccoli qua Che bello ragazzi Gigante Guarda che è pieno di gente arrabbiata La verità Ci pensiamo noi raga Io li ghiaccio Guarda come li ho ghiacciati Che cattiveria però raga Ma non c'è confronto qui Non c'è battaglia Sto distruggendo tutto raga Ragazzi vanno com'è Scappo No scappa occhio Non farti prendere Stef Ok sono tornato in aria Distruggiamo tutto Raffica di fuoco Ok state attenti Io li sto ghiacciando tutti qua sotto ragazzi Ma bene avete ghiacciato Vabbè avete ghiacciato Ragazzi dobbiamo fare attenzione Perché in pratica i nostri draghi Sono un po' antagonisti Nel senso che uno fa male all'altro Lo capisci Ebbè è ovvio ghiaccio e fuoco Anche se li abbiamo domesticati tutti Sono un po' Ragazzi mi avete dato fuoco Ma guardate che bello tutto ghiacciato poi È bello bello È bello 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 Raga mi sa che No c'è ancora gente C'è ancora gente Ti ce ne sono ancora Guarda qua ce n'è uno No ha ghiacciato uno ragazzi Sono tanti Colpito l'ora Attacco di fuoco incredibile La combo ragazzi deve essere Noi li ghiacciamo Esatto E poi gli uscite poi Esatto Se no facciamo un disastro Ragazzi li abbiamo distrutti Abbiamo fatto tutto Penso tutti Secondo me sì Siamo stati dei grandi Che bravi Che bravi Allora io a questo punto Vado ad evocare il potere massimo Anche io Io voglio farlo crescere ancora ragazzi Perché secondo me questa Non è la sua grandezza massima Allora Quindi sono molto curiosa Vediamo Ma torniamo lì Ok Io torno anche un po' succino Ok Scendo Anche perché sei stato al villaggio Distruggo tutto Lo so già Allora Eccomi qua Grandezza massima ragazzi Siamo sicuri Ragazzi un po' paura Mi dico la verità Grandezza massima Mi dico la verità Un po' paura Let's go Ok Ok Cresci bene mio bel drago Siete sicuri ragazzi Dimenterai grande e forte Noi tutti ti ameremo Ragazzi è un po' grande Un po' Io sto volando Ok Stai volando Ragazzi Non vorrei dare una brutta notizia a tutti Anch'io ne ho una brutta È che il mio drago mi ha abbandonato Anche il mio No è il mio peggio Il mio peggio Cos'è successo? Provate a guardarmi Non so se mi vedete Secondo me gli ho dato troppo da mangiare ragazzi Forse è una brutta notizia anche io Ovvero? Non sta bene Ha avuto un po' la tremarella Sì Penso che abbia formato un terremoto Troppo cibo Ragazzi secondo me gli abbiamo dato troppo cibo In poco lastro di tempo A mal di pancia dite? Eh può essere Ragazzi ma che ne dite se tipo ritorniamo nel portale? No io saluterei Facciamo che abbiamo fatto niente Possiamo Direi che ci vediamo Sono stati molto bravi come sempre Grazie a tutti Il villaggio l'abbiamo fatto fuori Esatto Il nostro obiettivo è completato I draghi forse li potevamo trattare meglio Effettivamente Vabbè però ci vediamo in un prossimo video Sempre esagerare noi ragazzi Ciao 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 Ciao